buongiorno essere musicali dal vostro carmelo massimo torre il vostro insegnante di musica oggi ci divertiremo con la danza trepak dallo schiaccianoci di tchaikovsky io vi darò degli esempi ma voi inventate i movimenti più strani e azzardati che volete in modo che la vostra fantasia si liberi il più possibile io darò qualche esempio come vi dicevo ma il resto a voi buon divertimento e cosa e cosa e cosa e cosa Alla prossima